Si mangia! Se a tavola vuoi gustare, da The Butcher devi andare! Con le tante specialità e le migliori carni! Bovina, ovina, suina, carni bianche, pollo, tacchino! E se tu vuoi continuare, i preparati devi comprare! Involtini di vitello con pistacchio, mandorla, noci, nocciole e cocco e ancora pollo arrosto, salumi, formaggi di ogni genere. Prodotti tipici locali puoi trovare! Sentito? Che aspettate? The Butcher Shop di Carmelo Cozzucoli Via Madonnuzza 1, Melito Portosalvo Info 345 1507 520 A tavola, con gusto!